E' stata concessa a Colin Andrew Firth la cittadinanza italiana. Lo rende noto il Ministero dell'Interno. Il famoso attore, premio Oscar per il film Il discorso del re, ha sposato una cittadina del nostro paese. La produttrice cinematografica Livia Giuggioli e, in più occasioni, ha dichiarato il suo amore per l'Italia. L'attore, 56enne, ha sposato la produttrice nel giugno del 1997, avendo poi da lei due figli, Luca e Matteo, e possiede una casa ACI della Pieve in Umbria. Firth, che ha ottenuto la cittadinanza italiana mantenendo anche quella britannica, aveva fatto a maggio richiesta di doppia cittadinanza. Un attestato di stima verso l'Italia che Giuggi dimostra di amare avendo imparato a parlare la nostra lingua perfettamente. Il Daily Mail aveva scritto che la decisione dell'attore premio Oscar per il ruolo di Giorgio VI, né Il discorso del re, una conseguenza della Brexit, da cui sarebbe horrified, o ripilato. Il suo ufficio stampa, per, ha confermato la notizia senza aggiungere commenti politici, limitandosi a 20 parole secche. Colin ha richiesto la doppia cittadinanza, britannica e italiana, per avere lo stesso passaporto di sua moglie e dei figli. Figlio di due professori universitari Il successo vero, nella carriera per l'attore britannico. Arrivato negli anni 90 e, precisamente, nel 1995 con l'adattamento televisivo della BBC di Orgoglio e Pregiudizio, di Jane Austen. Aggiudicandosi anche la candidatura per un premio BFTA. A seguire sono arrivati per Firth dei ruoli da protagonista o co-protagonista in Shakespeare in Love, né Il diario di Bridget Jones, in L'importanza di chiamarsi Ernest, in La ragazza con l'orecchino di perla, in Love Actually, in Nanny McFittata Matilda, in L'ultima legione, in Mamma Mia, adattamento cinematografico del musical, in Un matrimonio all'inglese e in A Christmas Carol. Nel 2009 ha vinto la Coppa Volpi al 66esimo Festival del Cinema di Venezia per la sua interpretazione in A Single Man, di Tom Ford. Per lo stesso film, gli è stato consegnato anche un premio BFTA e nomination agli Academy Award. Ai Golden Globe, agli Screen Actors Guild e ai BFTA. Dopo la sua interpretazione del re Giorgio VI, l'attore è stato nominato commendatore dell'Ordine dell'Impero Britannico dalla regina Elisabetta II del Regno Unito. Il 2 settembre scorso settembre Colin Firth e Julianne Moore hanno partecipato alla cerimonia del Franca Sozzani Award da Venezia. L'attrice premio Oscar ha ricevuto il riconoscimento dall'amico attore. La coppia Firth-Moore sugli schermi in questi giorni con la spy story ricca di azione e divertimento. Kingman il cerchio d'oro